la rassegna stampa è stata offerta da i sapori del vallo l'arte di fare la pasta www.isaporidelvallo.it Buongiorno e bentrovati alla nostra rassegna stampa andiamo a guardare i principali fatti sul mattino di oggi iniziamo con la prima pagina il titolo di apertura il governo appeso alle liti tra i 5 stelle salva stati, conte oggi alla prova in aula i numeri al senato restano in bilico manovra, salta l'accedolare sui negozi legge di bilancio, partiti e mance dai carnevali ai cani randaggi poi fondi alla Lega indagato l'uomo dell'autonomia IPM una parte dei famosi 49 milioni della Lega rientrata e infine girata su alcuni conti riconducibili alla Lega indagato Stefano Bruno Galli di taglio alto il ringhio del Napoli l'allenatore non si dimette il club lo licenzia oggi arriva Gattuso Champions Azzurri a Balanga Ancelotti esonerato nella notte di lato la guerra infinita polveriera Libia Erdogan pronto a mandare soldati a Tripoli e lo scenario se l'Italia resta imprigionata tra i due fuochi di taglio basso il dossier beni confiscati alla Camorra flop del comune di Napoli su 96 mobili utilizzati solo tre l'inchiesta appalti pilotati arrestato il sindaco di Villa Literno questa era la prima pagina in primo piano la manovra andiamo a vedere dai partiti storici al randagismo la carica all'ultimo emendamento al Senato e corsa finale al mini stanziamento c'è anche il centenario della scissione di Livorno pronto un milione per le scienze religiose contributi anche alle fiere estere delle piccole e medie imprese andiamo a vedere i numeri della manovra 23 miliardi di euro lo stanziamento per evitare l'aumento dell'IVA 30 miliardi il valore complessivo della manovra 3 miliardi fondi per il taglio del costo del lavoro 18 il valore residuo dell'IVA per il 2021 119 milioni l'aumento delle accise sulle sigarette 1,2 miliardi l'aumento delle accise sulla benzina per il 2021 come ogni manovra che si rispetti si legge qua nell'articolo si porta dietro il classico dei classici l'assalto alla diligenza e così il Parlamento o meglio le commissioni si trasformano in una specie di far west nel quale i deputati e senatori cercano di infilare nelle pieghe della legge di bilancio proposte di varia natura le ultime 24 ore sono state scoppiettanti in questo senso a rubare la scena in commissione bilancio del Senato è comparso l'emendamento di PD e l'EU che propone di concedere 200 mila euro per il 2020 e altrettanti per il 2021 per l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative culturali previste in occasione del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano avvenuto a Livorno il 21 gennaio del 1921 ovviamente il centrodestra è saltato su tutte le furie e l'iniziativa è per il momento accantonata ma altre hanno avuto maggior fortuna passando dal diavolo all'acqua santa arriva un milione all'anno dal 2020 per la ricerca sulle scienze religiose e ancora la commissione bilancio ha anche approvato un emendamento alla manovra che stanzia 200 mila euro l'anno per il prossimo triennio a favore del Consiglio Nazionale dei Giovani mentre tra le proposte passate spicca un altro milione a partire dal 2020 per la promozione della cultura e la lingua italiana all'estero e il generoso assegno si aggiunge ai 50 milioni già stanziati nel 2016 in un fondo ad hoc anche per la lotta al randagismo conquista il suo posto al sole ok ad un emendamento alla manovra approvato dalla commissione bilancio al Senato questi alcuni dei punti e rimaniamo su questa pagina dunque soldi al PC festa di mezzata il centenario accende le faide da 400 a 200 mila euro la destra all'attacco con Salvini e Meloni che parlano di vergogna ma il PD dice per celebrare il PP trovarono i soldi lasciamo questa pagina rimaniamo sempre sul mattino sempre con la politica Sardine in confusione sia a casa Pound anzi no la sbandata di Roma sconfessato l'organizzatore dell'evento di sabato che aveva aperto alla destra reviva l'antifascista ma di Stefano leader dell'ultradestra ci saremo senza bella ciao vediamo di troppo amore si rischia di morire non bastava Conte ma si è mai visto un premier che benedice il movimento di protesta giovanile e non bastavano Mario Monti o Monsignor Galatino Ponciopardi la Pascale no ecco anche casa Pound e il suo leader Simone Di Stefano a farsi Sardine ad annunciare che sabato saranno in piazza San Giovanni ci saranno dunque senza fare il saluto fascista ma anche senza cantare bella ciao e che pasticcio sta diventando il movimento delle Sardine è nato neppure un mese fa e già rischia di diventare nonostante la folla che andrà in piazza sabato a Roma un ricordo inebriante allo stesso tempo tempo ficcante si è infilato o è stato infilato il movimento nel peggio che passa il convento della politica il narcisismo tv del suo leader che si racconta reti unificate il PD che coccola così tanto fino a svelare senza volere la verità che di un fenomeno fondamentalmente PD si tratta e lasciamo anche questa pagina passiamo ai fatti dall'estero la crisi in Nord Africa potremmo andare in Libia a Ftar l'altolà di Erdogan il presidente turco non esclude l'intervento a difesa di Serrae se Tripoli ne farà richiesta contatti serrati con il Cremlino per individuare soluzioni politiche ed evitare il confronto militare il braccio di ferro sulla Libia è sempre più tra Turchia e Russia dopo che con la consueta franchezza il presidente Erdogan ha detto ieri che non esclude di intervenire al fianco del governo libico di unità nazionale del presidente al Serrae su invito di quest'ultimo Ankara è quindi pronta a inviare soldati sul terreno se le truppe del Feldmaresciallo Haftar uomo forte della Cirenaica spingeranno l'offensiva contro Tripoli per conquistare il controllo del paese Haftar del resto può contare sull'appoggio di Russia Emirati Arabi Uniti Egitto mentre Trump coerentemente al via libera dato a Erdogan a fare polizia di terroristi curdi nella fascia frontaliera della Siria in chiave pro-Turchia mette in guardia Haftar da nuove avanzate Di taglio basso l'Italia spiazzata aspetta l'Unione Europea e manda una nave militare l'invito dell'Italia resta quello del cessate il fuoco non allenta il pressing su Bruxelles al punto che potrebbe chiedere di discutere di Libia nel Consiglio europeo di venerdì ma l'invio della fregata della Marina militare Federico Martinengo nell'Egeo è il segnale che anche l'Italia potrebbe cambiare qualcosa nella gestione della crisi libica la mossa turca una sveglia per la Farnesina che punta ancora sulla conferenza di Berlino Passiamo alla prima pagina del mattino di Salerno il titolo di apertura l'economia il disastro dei cantieri fermi persi 2000 posti chiuse 714 aziende costruttori al prefetto subito il tavolo di crisi russo leader del lance condannati dice a morte da burocrazia enorme inefficaci ancora economia cooper standard degli operai salvati dalle commesse per i SUV di lusso è sempre di taglio alto la giustizia procura Borrelli torna in corsa con l'ok del CSM di lato la scuola i tre comprensivi di Salerno restano fuori dal piano della regione poi la sanità ginecologia stop contratti SOS ostetriche nelle maternità centro pagina serie B salernitana la torsida vall'attacco striscioni polemici in città ritiro tanto lavoro e poche parole sempre sul centro pagina l'ambiente la ringa di buongiorno sulle fonderie Pisano accuse approssimative l'ex ministro difende gli industriali di fratte una via crucis restituite dignità a questa impresa intanto a gennaio la sentenza l'inchiesta con Corsopoli la finanza indaga anche ad Angri erano queste le pagine del mattino diamo un'occhiata a la città l'apertura fisco killer e conti cappa o le imprese licenziano caos rottamazione gli imprenditori regolano la loro posizione ma occorrono tre giorni per annullare i pignoramenti a raffica la storia costretto a mandare a casa 50 dipendenti non gli basta mostrare alla banca la ricevuta del pagamento centro pagina Salerno i monopoli godono lotterie 1,6 miliardi di speranze poi l'allarme economia opere pubbliche ferme si perdono posti e soldi di lato il processo fonderia ringa della buongiorno accuse già escluse pagani fondi antiracket per il commerciante che soppose al pizzo vallo della lucania giustizia caporetto giudice incompatibile salta l'udienza sempre di lato il caso il consiglio di stato boccia il film porno eboli telecamere spente pagate a peso d'oro e poi il rapporto ispra per l'export rifiuti campania leader di taglio basso salernitana sole contestata allenamento nel silenzio lira ultrass è finita la pazienza diamo un'occhiata alla prima pagina di cronache la salerno che non ti aspetti la truffa della cravatta ben vestito si muove su una mercedes avvicina ex dirigenti di banca e li raggira tre casi acclarati in città il racconto di una delle vittime cadute nella trappola sotto la testata salerno antonello di cerbo in campo per le regionali con il psi e poi la presentazione bimbo morto con la pagella incollata sul petto ora vive in una canzone di due agenti centro pagina fonderie Pisano ieri udienza preliminare imputazione molto vaga fatta con coi rilievi dell'ARPAC dinanzi al GUP le discussioni degli avvocati della difesa Giulia Buongiorno e Guglielmo Scarlato poi andiamo a Moio della Civitella sonnato allo Cilento e Menevanto è nato l'inno del Cilento Pagani comune anticipa 23 mila euro ai dipendenti di Pagani cresce e di taglio basso la prevendita è ferma si teme un arechi deserto gli ultras non disertano ma c'è aria di contestazione infine Padula presepe sul barcone il bescovo replica a Cirielli e questa era crona che con cui termina la prima parte della nostra rassegna stampa ci fermiamo per un po' di pubblicità bentornati in studio riprendiamo la rassegna stampa con le pagine del mattino parliamo di scuola in Campania vediamo geografia scolastica via libera dalla regione ma senza i comprensivi ok al piano di dimensionamento mancano i tre istituti salernitani serve una delibera del comune da emanare entro il 17 dicembre via libera dalla regione al nuovo piano di dimensionamento scolastico per l'anno prossimo ma senza i tre nuovi istituti comprensivi di Salerno è delibera di giunta regionale numero 616 a rivoluzionare la geografia scolastica salernitana per l'anno scolastico 2020-2021 c'è l'ok alla succursale del liceo classico tasso a Ponte Cagnano Faiano ma il e il riordino in costiera amalfitana di alcune istituzioni scolastiche manca per ora il piano dell'amministrazione comunale del capoluogo non c'è traccia nel piano della regione dell'istituzione di tre nuovi comprensivi altamente strategici per l'ottimizzazione della rete scolastica già fortemente provata dal calo delle iscrizioni avvenuto quest'anno in vista di quello del prossimo anno lasciamo questa pagina rimaniamo sempre sul mattino andiamo anno c'era inferiore ZTL ZTL più ampia i cittadini contro i negozianti stop alle auto nella city anche a via Barbarulo e via Garibaldi ok dalla giunta torquato quell'area diventerà un boulevard commercianti scettici c'è chi annuncia lascio la città consensi a pioggia dai residenti è una scelta coraggiosa mercato Sanseverino emergenza smog in centro non decolla l'isola pedonale poi scafati abusi edilizia liberti o vittima della gestapo scafati fiumi di droga sgominata la gang di starita quattro arresti indagate due donne e pusher incastrate attraverso un virus spia nel telefono pagani coca e crack 15 anni per i due venditori e ancora pagani Marcello Torre il sindaco dimenticato dal comune a Napoli una piazza per il politico ucciso dalla camorra nella sua città celebrazioni senza il patrocinio pubblico e andiamo avanti spostiamoci a Cava dei Tirreni ex velodromo ai privati di offerte per riaprire la grande incompiuta chiuso il nuovo bando dopo la prima gara andata deserta l'impianto è costato oltre un milione ma resta nell'abbandono riparte il progetto dello sport per tutti che investirà soldi nella struttura l'avrà in concessione per più tempo ancora Cava dei Tirreni decibel alti scatte il blitz multe salate in due locali Dietri sul mare col Marini Gioia la prima scuola superiore il sindaco con gli studenti cresce la città Castel San Giorgio fuochi in consiglio e scontro sull'ex deposito della marina Angri concorso congelato finanza al comune poi Nocera superiore toppe sul tetto dell'asilo oggi stop lezioni all'Apolo andiamo a battipaglia Cooper Standard le commesse per i SUV salvano i lavoratori guarnizioni per 230 mila auto Jeep Compass e Alfa il piano industriale presentato a Confindustria scaccia la crisi destino inverso a quello di Treofan le nuove produzioni partiranno in estate e potranno azzerare la cassa integrazione Moio della Civitella Asl Cilento sindaci divisi Alfieri idea superata una seconda Asl per il Cilento e Diano una proposta superata per il sindaco di Capaccio Franco Alfieri l'argomento è stato tra i punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei sindaci del parco che si è svolta lunedì scorsa nell'antica chiesa di San Bartolomeo a Moio della Civitella tra i punti all'ordine del giorno l'emergenza sanità con la richiesta dei sindaci di ridare un Asl di riferimento al territorio a sud di Salerno ovvero ripristinare la ex Asl Salerno 3 soppressa nel 2008 su tale proposta i sindaci nei mesi scorsi si erano già espressi in modo favorevole approvando nel corso di un'altra assemblea un'apposita delibera furono 81 i sindaci dell'area parco a dire sì andiamo a Eboli videocamera data in custodia alla ditta tegola da oltre 5 mila euro per il comune poi Bellizzi ladri in casa messi in fuga lungo la strada svuotano auto Padula Gesù nel barcone il bescovo Bacchetta Cirielli non si placa la polemica sulla natività allestita su un barcone di migranti in una mostra presepe nel centro storico di Padula una scelta quella dell'artista che ha scatenato la protesta dell'onorevole Edmondo Cirielli Gesù non era un islamico ha detto tra le altre cose a questa protesta ha risposto il vescovo della diocesi di Tegiano Policastro Monsignor Antonio De Luca evidentemente ha riferito il vescovo non si è ancora compreso che o in una mangiatoia o in un barcone o in qualsiasi altro luogo se Gesù non nasce nel nostro cuore non sarà mai Natale Ponte Cagnano Faiano referendum ecodistretto l'opposizione dal prefetto Lasciamo il mattino spostiamoci su cronache Padula Bimba allontanata dalla famiglia continua la lotta di Vincenzina presentata una nuova richiesta di affido da parte dei nonni la giovane mamma chiede di poter stare con sua figlia illegale avanzato nuovamente le richieste dopo una documentazione più approfondita Ponte Cagnano torna lo show delle arti digitali al via il Ponte Cagnano Faville Festival evento il 14 e 15 dicembre Buon abitacolo il comune progetto il recupero di un vecchio mulino a vento approvato il progetto definitivo lo scorso 29 ottobre e anche su cronache la replica di Monsignor De Luca Cirielli sul presepe di Padula il vescovo di Teggiano Policastro parla di chiara vena populista e polemica attacca il deputato Salernitano Eboli liberi in canti la manifestazione al chiostro monumentale di San Francesco Giffoni Vallepiana il sindaco Giffoni al passo con le grandi città approvato in consiglio comunale il regolamento per l'installazione e la gestione dei Deors e Battipaglia Sporti in comune premiata la città del sindaco francese presente il presidente strianese della provincia e il presidente del CONI Campania e con Crona che termina la nostra rassegna stampa grazie per essere stati con noi vi auguro buona giornata grazie per la visione